Musica Buon pomeriggio a tutti, bentrovati a una nuova edizione live del nostro telegiornale che apriamo andando subito in esterna per un argomento che continua a far discutere, fa discutere da un po', stiamo parlando del futuro di Via Mercato Vecchio e del centro in generale. Ci sono varie proposte, andiamo ad ascoltarne una e quindi ci colleghiamo immediatamente con Francesca Santoro, anzi ci collegheremo tra pochissimo con Francesca Santoro da Via Canciani, proprio per parlare di una delle iniziative, delle idee, di proposta che riguardano Via Mercato Vecchio e il centro di Udine. Se è pronta io andrei da lei, Francesca, buon pomeriggio. Sì, buongiorno Giorgia, sono con Autonomia Responsabile che sta facendo un'opera di promozione del proprio pensiero sul futuro di Via Mercato Vecchio. Cosa proponete voi per il futuro di questa strada? Come abbiamo detto in Consiglio Comunale, la chiusura, la chiusura riteniamo giusta la sperimentazione, però adesso siamo arrivati a un punto, a un dunque, col quale noi abbiamo detto appunto in Consiglio Comunale dal Sindaco Fontanini che vogliamo chiusa Via Mercato Vecchio, che faccia parte di una zona pedonale finalmente ben definita, perché questo riteniamo che sia il furco del problema e da definire, un'area pedonale appunto dove le famiglie udinesi finalmente si ritrovino serenamente, insomma tranquillamente. Quindi Via Mercato Vecchio chiusa, siamo qui a raccogliere ulteriori informazioni da portare al Sindaco, che comunque ci sembra ben orientato, dopo appunto questo periodo di sperimentazione iniziale, alla definitiva chiusura. Quindi siamo speranzosi e abbiamo riscontro delle persone che ci dicono, circa un 80% delle persone che abbiamo contattato e che stiamo contattando adesso personalmente, che la vogliono chiusa, vogliono appunto un centro che sia vivibile, che riporti appunto alle famiglie appunto a ritornare in centro in tranquillità, insomma. E questa zona deve, a prescindere, deve considerare anche Via Mercato Vecchio. Quali sono i suggerimenti che raccogliete tra le persone? Vi danno qualche idea su come vedono loro la Mercato Vecchio del futuro? Beh, oggi, questa mattina, che noi stiamo raccogliendo i pareri, no? Soprattutto volevamo questo. Abbiamo avuto gente, anche cittadini udinesi ovviamente, però anche gente da fuori, dal Veneto, anche dal meridione, gente turistica che vengono a visitare Udine e dicono che è una grande città, una bella città, però dicono che la vivibilità è la cosa primaria da assicurare al cittadino. Abbiamo chiesto se era possibile, secondo loro, era giusto rendere pedonale o non pedonale una via e hanno detto che la città è piccola, avete degli ottimi parcheggi interrati che abbiamo visto, per cui, perché no, una via pedonale dove tutti possono accedere, possono familiarizzare, possono fare acquisti e possono vivere e vedere questa città che è meravigliosa. Noi abbiamo avuto ottimi riscontri oggi, specialmente da gente da fuori, da gente da Verona anche, che sono venute da Treviso, gente che ovviamente gira l'Italia, vede tutte le città e dice avete una città stupenda, dovete cercare di renderla più vivibile per i cittadini. Grazie allora Marco Valentini, Sandro Bassi di Autonomia Responsabile, a te Giorgia. Grazie, grazie Francesca. Andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo a Pagnacco, in borgo Fontanabona, dove nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo, Paolo Zanetti, di circa 55 anni, nel cortile della sua abitazione, a dare l'allarme l'ex compagna che non aveva sue notizie da alcuni giorni. Secondo quanto si è preso, i carabinieri intervenuti sul posto hanno inizialmente valutato il caso come un decesso per cause naturali. Successivamente però sono emersi elementi che hanno spinto gli investigatori ad approfondire le indagini per escludere definitivamente la possibilità di altre cause della morte o se si è trattato di un malore. Intanto l'abitazione in cui viveva l'uomo è stata posta sotto sequestro e del fatto è stata informata la procura di Udine. Andiamo ora a Trieste, dove c'è stato un incidente stradale tra due auto, in via Conti, con angolo via dello sterpeto, gli astanti, è successo alle 13.30 circa, gli astanti riferiscono di una persona in auto che non respirava, sono intervenuti i soccorsi con manovre avanzate di rianimazione cardiopolmonare, poi il paziente è stato trasportato a Catinara. Più di 3 litri di GHB, il potente acido conosciuto come droga dello stupro e altre sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati a Bologna dai carabinieri in un'indagine che ha portato all'arresto di 4 persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un uomo di 48 anni di Bologna, di un 38enne di Cosenza con piccoli precedenti e due incensurati, un 52enne di Parma e un 43enne di Trieste. Secondo gli investigatori, i quattro indagati sono tutti professionisti insospettabili che avrebbero piazzato le droghe in alcune discoteche della città. L'indagine del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro è partita da informazioni confidenziali raccolte tra i frequentatori di alcuni noti locali notturni ed è proseguita con pedinamenti e attività di osservazione. I carabinieri di Udine hanno fermato per un controllo un'auto. A bordo c'erano due fratelli, un 24enne e un minorenne di origine albanese trovati in possesso di 37 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata, il maggiorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti mentre il minore è stato denunciato per lo stesso reato e affidato a una casa famiglia. I carabinieri di Sacile invece hanno ritirato la patente e denunciato per guida sotto l'influenza di alcol e stupefacenti un 31enne di Caneva che il 4 novembre intorno a mezzanotte e mezza era uscito di strada a Porcia finendo contro il muro di recinzione di un'abitazione. I test dopo il suo ricovero in ospedale hanno accertato la positività di alcol e cannabinoidi. Andiamo ora a Trieste per parlare di un fatto legato all'ultima Barcolana è stato infatti denunciato l'autore dell'aggressione che è venuta proprio a Trieste nella notte della Barcolana si tratta di FF, queste le sue iniziali, classe 1996 un cittadino italiano ma residente in un'altra regione con precedenti di polizia per stupefacenti e guida in stato di ebrezza. Sono durate oltre due mesi le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste e svolte dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile della Questura finalizzata ad individuare l'autore di questa violenta aggressione che ha ridotto in coma una giovane romano residente a Trieste durante la notte precedente alla Barcolana. Alessio V, carabiniere presso una notta pizzeria delle rive rimaneva vittima di un'aggressione appunto posta in essere da questo soggetto ignoto. Il giovane si trovava con alcuni amici quando si è allontanato per acquisire delle sigarette in quei frangenti veniva incrociato da una coppia e probabilmente a seguito di alcuni apprezzamenti rivolti alla ragazza c'era stato un alterco con il fidanzato che gli sferrava un pugno a seguito del quale rovinava a terra e batteva la nuca sul bordo del marciapiede. Abbiamo detto due mesi di indagini con visioni di telecamere ascolto dei testimonianzi insomma si è arrivati a individuare e denunciare l'autore di questa aggressione. Ora veniamo ai fatti di Strasburgo all'attentato accaduto ieri sera nel corso dei mercatini di Natale andiamo a vedere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti e ovviamente ancora caccia al killer radicalizzato e già condannato 20 volte per reati minori vedete fermati padre e madre e due fratelli quindi tutta la famiglia e a casa del 29enne sarebbe stato trovato materiale esplosivo intanto purtroppo è gravissimo il giornalista italiano che è rimasto ferito nel corso di questo attacco. Questi sono gli aggiornamenti appunto che ci arrivano da Strasburgo su quello che è stato l'attentato di ieri sera. Noi abbiamo raccolto una testimonianza quella dell'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Zullo che si trovava proprio a Strasburgo e che è rimasto bloccato in albergo. Sentiamo. In questo momento sono in albergo siamo rientrati questa notte tarda accompagnati, scortati sempre ai nostri colleghi dipendenti del Parlamento nei vari alberghi più di questo non so cosa posso dire nel senso che la situazione ovviamente non è piacevole. piacevole. Ovviamente è in corso la ricerca del killer si parla anche di due possibili attentatori rispetto anche alla matrice terroristica lei che notizie stanno giungendo attualmente la situazione come le appare? Abbiamo notizie come tutti che appaiono sui canali di comunicazione e quindi siamo con attenzione a seguire quello che arriva su questi canali. Ha notizie rispetto al connazionale che attualmente risulta in gravi condizioni? No, 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 notizie dirette. Lei ha scritto un posto in cui afferma che ogni anno sia lei che gli altri eurodeputati arrivate alla sessione plenaria di dicembre temendo di essere a rischio. È una situazione che percepiamo l'attentato a Bruxelles sappiamo che il periodo natalizio qui a Strasburgo è un periodo rischioso. Ovviamente è tutto da chiarire ma lei che spiegazione si sta dando rispetto alla scelta di Strasburgo? Guardi, quello che posso dire al cittadino è un momento in cui si uniscono le istituzioni europee ed è un momento molto affollato dove immagino possa essere più facile compiere i gesti di questo tipo. E lei è in contatto con altri corregionali che sono presenti nel comune? Io sono sentito ieri con la mia collega del Fibri Vecchia Giulia e del Monte e stava bene anche lei. Ha paura rispetto alla possibile presenza dell'attentatore comunque nella zona? Non particolarmente certo è che il livello di attenzione è alto. Torniamo in regione per parlare di un caso che stiamo seguendo in tutti i suoi complessi aggiornamenti davvero ora dopo ora il caso dell'ADM Electron. Questa mattina a Trieste c'è stato un nuovo tavolo a cui ha partecipato anche il governatore Massimiliano Fedriga. Vediamo. Si è svolto questa mattina a Trieste presso la sede regionale l'incontro tra il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga gli assessori al lavoro e le attività produttive con la proprietà di DM Electron e le organizzazioni sindacali. Durante il vertice sia la regione che i sindacati hanno chiesto all'azienda la conferma degli impegni produttivi e occupazionali nel sito di Buia. Se il taglio dell'IRAP appena licenziato dalla Giunta testimonia ampliamente l'attenzione rivolta agli investimenti dei privati sul territorio le risorse che abbiamo destinato in bilancio a vantaggio delle stabilizzazioni ha evidenziato Fedriga sono lo specchio di quanto questa amministrazione si avvicina alle esigenze dei lavoratori. Il direttore generale della DM Electron fanno sapere dalla FIM CISL ha confermato l'impegno produttivo nello stabilimento collinare ma non ha preso impegni rispetto al mantenimento degli attuali livelli occupazionali. La nostra preoccupazione spiegano i rappresentanti dei lavoratori è che la proprietà stia ragionando sulla possibilità di lasciare in Italia solo la parte della progettazione e della prototipazione per spostare la vera produzione in Romania. Tutto ciò sarebbe inaccettabile. Contrariamente a quanto dichiarato nell'incontro dello scorso 10 dicembre in regione dal proprietario Melchior che ha detto che in Romania c'erano lavoratori più qualificati nei mesi scorsi sottolineano ancora dal sindacato molti dei lavoratori italiani sono stati inviati proprio nel paese dell'est Europa per addestrare i lavoratori rumeni. Chiediamo concludono dalla FIM al governatore Fedriga di far fronte comune con i lavoratori e le lavoratrici quanto accade a Buia è per fortuna un atteggiamento non comune di irresponsabilità aziendale proprio per questo va combattuta perché sia affermato un atteggiamento seicentesco e padronale di fare azienda. Una volta delegazione degli artigiani della nostra regione parteciperà domani alla manifestazione nazionale che si terrà a Milano per mandare un messaggio chiaro al governo le parole di Graziano Tilatti presidente di Confartigianato che motiva così la partecipazione dice senza infrastrutture non c'è sviluppo per le nostre imprese e per la nostra terra a Milano faremo sentire la voce di una regione che ha bisogno di aver garantito il consolidamento e il potenziamento del suo sistema portuale delle linee ferroviarie per arrivare all'alta velocità e alta capacità di giungere rapidamente alla conclusione del cantiere per l'ampliamento della terza corsia A4 i cui tempi di realizzazione sono stati fino ad oggi positivamente rispettati. E ora vi raccontiamo una storia la storia di una fiorista designer che da giorni sta subendo furti all'esterno del suo negozio udinese in via Muratti tanto che si è decisa a esporre un cartello di denuncia vediamo sono un po' di giorni che vedo partire tutte le creazioni personali che io sto facendo sono una donna fiduciosa ho sempre lasciato fuori tirando dentro a ora di pranzo le cose più costose però mi sono accorta che mi rubano quando io sono all'interno sull'imbrunire e quindi non so come difendermi e purtroppo un po' di tristezza nel cuore ce l'ho questa inciviltà l'ha vista crescere negli ultimi tempi cresce sì quest'anno più che mai di solito sotto Natale qualcosina è sempre volato via adesso è dall'inizio del mese che insomma sono già oltre 150 euro di furto uno dirà non è un granché però verrà fuori così il mio guadagno a tutti gli effetti è una rete a protezione di alcune sue piani sì mi è venuta l'idea di comprare la rete un po' protettiva insomma vediamo cosa succederà la vediamo molto amareggiata di là della perdita dei soldi sì perché non è quello che vorrei che messaggio lanciamo dunque alla popolazione che purtroppo c'è un malessere di fondo e non c'è punizione quindi uno vede qualcosa di bello le piace lo può prendere quindi la morale di tutto è che nessuno viene punito per quello che sta facendo una donazione che viene dal cuore generoso dei tifosi quella che stamattina è stata consegnata alla struttura dell'associazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato attraverso la piattaforma di Cerity Stars leader mondiale nelle aste benefiche online Udinese per la vita ha potuto raccogliere i fondi necessari ad acquistare un sollevatore universale intelligente che questa mattina è stato consegnato direttamente da Magda Pozzo alla direttrice generale della struttura la dottoressa Tiziana Scacabarozzi vediamo Oggi è una giornata eccezionale molto positivo avere Udinese per la vita e i giocatori della squadra noi seguiamo 1250 bambini complessivamente di cui 67 con un trattamento a ciclo diurno quindi con una riabilitazione intensiva per situazioni anche che hanno dei quadri clinici importanti e poi molti altri che vengono come trattamento ambulatoriale nelle discipline riabilitative che sono previste dal loro piano personalizzato di intervento il dono è un sollevatore che verrà utilizzato proprio a favore dei bambini soprattutto che hanno situazioni condizioni di vita con disabilità motoria per i quali c'è bisogno di assistenza e di cura primaria per i bambini del ciclo diurno quindi è un dono molto prezioso una festa oggi diciamo tra le corsie della struttura anche per l'arrivo dei giocatori come Vague e Ingelson i bambini hanno apprezzato e hanno dato anche tantissimi disegni sì i bambini erano entusiasti alcuni emozionati erano pronti ad accoglierli tanto che avevano preparato dei disegni delle sagome dei campi di calcio spettacolari su carta e cartoncino e quindi è stato un momento di gioia e di incontro ecco questo è anche questo è un dono apre al pubblico Cappella Manin gioiello dell'arte barocca di Udine grazie al Touring Club italiano che fornisce i suoi volontari e quindi la Cappella sarà visitabile il sabato dalle 14.30 alle 18.00 vediamo Gian Mario Maggi è consigliere del Touring Club italiano per Udine in che cosa si sostanzia questa convenzione con il comune? ma essenzialmente una messa a disposizione da parte del Touring di un certo numero di volontari per poter tenere aperto un prezioso bene di Udine che è la Cappella Manin il progetto si chiama Aperti per voi è un progetto che è nato 13 anni fa ormai è diffuso in tutta Italia sono 78 i siti che teniamo aperto in tutto il paese con intelligenza chiamiamo così che sta alla base di tutto questo non pensare che in Italia ci siano dei beni minori i beni culturali sono tutti beni culturali e il Touring ha messo in atto questa iniziativa proprio non a caso chiamata Aperti per voi che va dalle piccole realtà locali queste sì fino al Palazzo del Quirinale i volontari del Touring sono stati chiamati dal Presidente della Repubblica per tenere aperto agli italiani il Palazzo del Quirinale A proposito di questa Cappella Manin che cosa potranno venire a scoprire che è Unicum? Ma l'Unicum è la Cappella in sé stesso una Cappella Gentilizia una Cappella che abbiamo la convinzione e vorremmo sbagliarci che anche gli abitanti di Udine conoscono pochi pur essendo stata una Cappella dove si celebrava la Messa dove si facevano i battesi dove si facevano dei momenti liturgici importantissimi credo che riscoprire questo e aggiungere agli abitanti di Udine anche i turisti sia una gran cosa la Cappella è proprio un Unicum come è stato detto e la possibilità di farla visitare e farla diventare un luogo di attrazione turistica è lo scopo del Touring e non solo del Touring ma anche dell'amministrazione comunale e questa è sicuramente una bella iniziativa per la nostra città parliamo ora di calcio con l'Udinese che si avvicina alla sfida contro l'Inter con delle buone notizie tutto sommato Jacopo Romeo ciao Giorgia buonasera a te a chi ci segue da casa sì con delle notizie più che buone perché Valomberami che era stato costretto alla panchina della gara contro l'Atalanta si è allenato regolarmente questa mattina ha svolto tutta la seduta ed è stato provato da Davide Nicola senza alcun tipo di problema in tutte quelle che sono state le esercitazioni tattiche che hanno caratterizzato un po' un allenamento iniziato in ritardo perché c'è stato un intenso lavoro sulla forza che la squadra ha svolto in palestra prima di spostarsi poi sul campo 3 del Bruseschi il centrocampista svizzero sarà dunque della partita contro l'Inter lo ricordiamo Giorgia lui aveva subito questo colpo alla cavia nella gara contro il Sassuolo tant'è che era uscito prima di inizio secondo tempo dunque adesso la situazione è totalmente rientrata ma notizia se vogliamo ancora più positiva è il ritorno in gruppo di Antonin Barak perché lui si era fatto male aveva avuto questi problemi di lombalgia nel riscaldamento della gara contro il Milan nello scorso 4 novembre dopodiché non era mai riuscito ad allenarsi con continuità aveva fatto un po' di ginnastica preventiva delle terapie ed era tornato a lavorare individualmente però a metà della scorsa settimana ieri allenamento con il pallone ma ancora a parte quest'oggi praticamente dopo un mese e mezzo è rientrato un gruppo a disposizione di Davide Nicola vedremo dunque anzi è probabile che sia a disposizione quantomeno per essere convocato nella trasferta di Milano contro contro l'Inter queste un po' le notizie positive dal fronte infortunati o comunque acciaccati mentre Pezzella che ieri vi avevamo raccontato aver abbandonato anzitempo allenamento per un problemino per un fastidio al retto femorale anche questa mattina non si è allenato in gruppo ha lavorato al coperto alla Dacia Arena e dunque questo magari mette un po' più in bilico diciamo così la sua presenza nella gara contro l'Inter ovviamente viene valutato giorno dopo giorno la squadra tornereà in campo domani di mattina per il penultimo allenamento prima della rifinitura di venerdì poi nel pomeriggio di venerdì partirà verso verso Milano insomma questo è un po' il croniprogramma dei giorni che separano l'Udinese dalla trasferta contro l'Inter quindi sabato l'Udinese gioca a San Siro poi se vi venisse nostalgia della Dacia Arena ci potete assolutamente andare anzi siete i benvenuti domenica domenica alle 12.30 perché Jacopo c'è bisogno di sostenere il Tavagnacco sì Giorgia per il secondo anno consecutivo la gara che il Tavagnacco è chiamato a disputare contro la Juventus femminile si giocherà nel nostro stadio alla Dacia Arena l'anno scorso era stata una bella festa l'esperimento viene dunque ripetuto anche in questa occasione il Tavagnacco sta disputandosi in qui un buon campionato la Juventus invece è partita male nelle ultime gare un po' come succede ai maschietti Giorgia è diventata un rullo compressore sta scalando nuovamente la classifica e sta tallonando il Milan che è in vetta dunque sarà sicuramente un bel momento per il calcio femminile in generale per lo sport e noi nel pomeriggio Giorgia abbiamo avuto anche occasione di avere ospiti alla Dacia Arena il vicepresidente Buonanni e la capitana camporese del Tavagnacco un po' per presentare questo evento perché? perché tutti si augurano che ci sia una bella cornice di pubblico come già era successo l'anno scorso quando il Tavagnacco si perse 2 a 1 ma giocò davvero una bella partita contro la Juve giocare contro la Juventus in un palcoscenico come la Dacia Arena fa diventare tutto molto più intenso molto più sentito per noi sarà una partita importante perché stiamo facendo un cammino quanto più breve possibile per la salvezza consapevoli che sarà una partita difficilissima però tenteremo in tutti i modi di difendere il nostro campo e il nostro stadio Il bilancio anche della stagione del Tavagnacco fino a questo punto perché in estate c'era stato un bel rinnovamento puntando anche su tante ragazze giovani insomma un nuovo percorso possiamo chiamarlo così eppure possiamo dire che sin qui il cammino è soddisfacente Sì diciamo che abbiamo probabilmente sbagliato una partita e per il resto la squadra sta in questo momento iniziando ad ingranare da un punto di vista soprattutto di approccio alle partite e di mentalità Continua anche interscambio e collaborazione che c'è del Tavagnacco e l'Udinese calcio all'interno poi di una domenica importante alla quale ovviamente tutti ci auguriamo e siamo certi che ci sarà un grande contorno sì la ringrazio la ringrazio ovviamente dobbiamo dire non grazie molto di più all'Udinese perché ci dà questa possibilità e dunque queste le parole del vicepresidente Buonanni e della capitana Elisa Camporese ricordiamo ancora l'appuntamento domenica alla Dacia Arena ore 12.30 Tavagnacco Juventus Perfetto grazie Jacopo noi siamo in chiusura torneremo live per tutti gli aggiornamenti alle 19 grazie per averci seguito buon proseguimento di serata